Ciao a tutti ragazzi, oggi finalmente il mio nuovissimo video, finalmente ragazzi lo so che in questo periodo sono stata un po' assente perché ovviamente ci sono stati appunto le vacanze di Natale, quindi ovviamente sono stata dai miei parenti eccetera poi come avete potuto vedere sono stata a Londra, sì è una città che davvero io adoro quindi anche perché col fatto che sono mezza inglese mi fa sempre super piacere andare lì, non lo so, entrare un po' nel mondo appunto britannico e quindi poi avete visto anche sono stata a Roma, anche essa bellissimissima città e quindi entri ragazzi vi volevo dire che oggi con il mio video speciale perché appunto ve l'avevo promesso e io sono appunto di promessa ecco e appunto il video a braccio di ferro con mia madre l'ho visto tantissime volte sotto i commenti che me lo avete chiesto tantissime volte ragazzi davvero ma per chi non fa appunto braccio di ferro con tua madre ed eccomi qui accontentati ragazzi se sentite un po' questa voce un po' nasale perché sono raffreddata perché comunque è il dicembre, il clima cambia eccetera classiche cose e quindi niente ragazzi vi volevo dire che il video speciale cioè no speciale scusatemi, il video sorpresa io sono rimasta anche io un attimo spaisata davvero ragazzi mi ha fatto super piacere, sono stata contentissima davvero anche oggi l'ho rivisto, mi sono di nuovo messa a ridere perché mi fa troppo ridere e quindi niente ragazzi poi mi avete anche chiesto se potevo sfidare Riccardo perché appunto si chiama Riccardo a braccio di ferro allora ragazzi non che io neghi che sia forte tutto però nel senso io non credo che mai riuscirò a battere lui anche perché è l'ideatore del flat pole in Italia quindi è davvero grazie a lui che ho questo fisio ovviamente anche grazie a me che ci metto tanta volontà però ovviamente anche grazie a lui che anche lui mi ha insegnato appunto a fare il palo scusate oggi questi capelli e quindi niente ragazzi io sono davvero super contenta di registrare questo video non vedo l'ora appunto di vedere il risultato e quindi niente iniziamo subito ciao ragazzi oggi è il mio nuovo video un special video per voi per 2.500 follower sono molto felice di questo risultato e continuate lavorando e seguite me e i miei exercici se vuoi avere buoni muscoli e un buon corpo e oh my gosh my hair today is terrible let's get started ragazzi sono Vico mia madre vi assicuro che è lei non si vuole far vedere il video per motivi appunto di privacy però ne lo posso assolutamente dire io e anche lei sta facendo così come il segno che la mia madre allora ragazzi iniziamo questa sfida a braccio di ferro sono rimasta un'altra perplessa perché il mio braccio è il sinistro ho fatto addio sinistra e sinistra quindi ho sono mancina anch'io quindi tutti e due mancina aiuto via no va bene questo è il tuo braccio si ma se si no vabbè dai no riproviamo riproviamo perché a parte ti parte il non è possibile ma aia sono troppo debole o sei tu particolarmente forte ma scusè senti ecco l'altro braccio proviamo con questo dai perché io ragazzi lo sto facendo con il mio non braccio quindi quello non del flex è vero questo lo sento più forte vai questo è per me anche debole addio guarda se mi faccio battere la mia madre davvero ragazzi mi diseredo come dal mezzo a due iscriviti Scusate ragazzi Io davvero rido Perché mi fa scattare cefacce Misieramente battuta Arrivederci Quindi ragazzi Il video è finito E mi sono divertita tantissimo E vi volevo dire Prima di lasciarvi che intanto Il canale di Riccardo Ve lo lascio sotto nella info box E vi volevo dire che mi sono appunto dimenticata Di dirvelo prima Che lui è davvero muscoloso Lui diciamo è modesto Quindi nel senso non è che se ne vanta Ma ha dei muscoli ragazzi Pazzeschi Cioè davvero io ogni volta che lo vedo Rimango Cioè così Ha dei muscoli ragazzi Non ho mai visto così Così grandi Insomma così sviluppati Raga e vi mando un Un mega bacione Poi volevo salutare Due Diciamo due miei fan Che si chiamano appunto Ludovica e Benedetta Bimbe vi voglio un mondo di bene E vi mando Due bellissimi baci E quindi niente ragazzi Vi volevo dire Prima di lasciarvi Che ci vediamo la prossima volta Qui nel mio canale Per appunto Dei esercizi Per smaltire I vizi natalizi Fa anche rima E si Non vedo l'ora appunto Di registrarlo E poi successivamente Di farvelo vedere Noi ragazzi Ci vediamo la prossima Ciao